Tre d'aspo. Oggi dalla questura di Vicenza arrivano i provvedimenti nei confronti dei tifosi che avrebbero aggredito un autista di SVT e danneggiato l'autobus. E' passata esattamente una settimana da quando il 12 maggio allo Stadio Menti van di scena i play-out di andata del campionato di calcio di Serie B, Vicenza-Cosenza. Vincellane ma quello che è gioco sul campo da calcio si trasforma in violenza che nulla a che fare con lo sport fuori dallo stadio. Tutto sarebbe accaduto sull'autobus navetta messo a disposizione dei tifosi calabresi durante il viaggio di ritorno al casello autostradale di Vicenza-Est. Un bergamasco di 30 anni e un cosentino di 54 dopo essere scesi da una porta posteriore del bus avrebbero forzato da fuori quell'anteriore per poi risalire e aggredire violentemente l'autista procurandoli ferite al volto giudicate guaribili in sette giorni dai medici dell'ospedale di Vicenza. Secondo gli investigatori l'azione sarebbe stata premeditata perché poco prima sarebbe stata oscurata la telecamera di sicurezza all'interno dell'autobus. Ma c'è di più. Sempre durante il percorso in quella situazione caotica un veneziano di 47 anni avrebbe scardinato con violenza un finestrino della corriera rompendolo totalmente. La misura è colma anche per la CISL che chiede che gli autisti non restino più da soli sugli autobus. Chiediamo assolutamente che soprattutto in questi casi non possa rimanere solo su un autobus in balia di tifosi anche in condizioni di non magari estrema lucidità non possa rimanere un autista da solo. Nel caso specifico le indagini iniziano immediatamente. La Digos di Vicenza col supporto di quella di Cosenza individua i presunti responsabili. Al termine delle attività investigative oggi il questore di Vicenza Paolo Sertori ha disposto nei confronti dei tre tifosi altrettanti decreti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive. Per sette anni nei confronti dei due che avrebbero aggredito l'autista e di cinque anni per il veneziano che avrebbe danneggiato l'autobus. Inoltre sono stati valutati i gravi precedenti penali o di polizia in capo ai tre tifosi. I due accusati di aver picchiato l'autista hanno infatti precedenti per oltraggio pubblico ufficiale, falsa testimonianza, uso di sostanze stupefacenti, percosse e danneggiamenti. Da oggi e per sette anni non potranno più entrare negli stadi e in qualsiasi struttura dove si svolgono manifestazioni sportive di calcio, dalla nazionale alla terza categoria e in tutti i campionati giovanili, oltre che nei luoghi di sosta, di passaggio e di trasporto degli altri tifosi. Daspo di sette anni, sette che nella cabala è un numero associato al vaso. Immagine perfetta, sì perché quello che questi tifosi avrebbero combinato è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.